Buongiorno a tutti, qui è sempre Arduino Schenato da yearforex.com e in questo video vorrei parlare con voi della situazione tecnica, esclusivamente tecnica, grafica dell'eurodollaro, quindi farò un'analisi dei prezzi, di quello che ci stanno indicando i prezzi, nella coppia di valute diciamo più importante proprio del mercato forex. Prima di iniziare però vi chiedo sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Quindi partiamo con l'analisi quindi di eurodollaro, come vedete il grafico è un grafico settimanale, vorrei prenderla un po' con una view un pochino più di ampio respiro anche se in realtà la view è per la prossima settimana. Questo per farvi capire alcuni concetti di prezzo che potrebbero essere buoni per questa situazione ma in generale quello che sta avvenendo può essere poi no? È un qualcosa che se studiato è qualcosa di ripetitivo e quindi anche in ottica didattica si può utilizzare poi nel futuro. Allora cosa è successo? Cosa sta succedendo? Vi ricordo che in questo momento siamo a venerdì pomeriggio, sono circa le 17 quindi è ovvio che ci deve ancora essere una chiusura settimanale però insomma chiusura più, chiusura meno quindi un po' più basso, un po' più alto. Il mercato di eurodollaro ha consolidato in questi giorni, in queste settimane proprio tra 1,22 e 1,21 e in questo caso 1,21 in realtà 1,21 e 50 e ha creato praticamente una situazione di questo tipo creando in realtà anche un pavimentino qui che al momento in chiusura di settimana sembra rotto. E quindi in questo caso che cosa si può andare a notare? Si può notare che molto probabilmente l'eurodollaro non è solo, non c'è una debolezza veramente solamente di euro in questo momento ma c'è una forza di dollaro che in effetti è arrivata proprio in questo venerdì un po' su tutto. Mentre fino a ieri c'era stato un indebolimento del dollaro, in questo caso c'è stato un ritorno di forza del dollaro dopo questa fase di debolezza. Quindi in ottica operativa però se dovessi andare a fare qualcosa, magari vedrò anche di fare qualcosa sull'euro la prossima settimana, dipende se mi darà delle opportunità, quello che mi sento più di andare a cercare che cos'è? E' anche un indebolimento ancora, un movimento ancora più ampio al ribasso che potrebbe arrivare proprio su quest'area qui che voi vedete qua e che diciamo risponde al livello di prezzo 1,20,50. 1,20,50 quindi potrebbe diventare proprio quell'area dove magari trovare degli spunti rialzisti, questi magari su grafico daily. Sull'area 1,20,50 infatti abbiamo delle zone importanti di tenuta e un'area quindi statica. Abbiamo anche un'area dinamica di rottura, ricordo che siamo in una tendenza long ma soprattutto c'è una tendenza long che arriva da qui, che passa dai minimi e dai massimi che se noi andiamo a prendere appunto questo leg, questa gamba rialzista noteremo come ci sono delle zone percentuali proprio di ritracciamento che possiamo identificare come area 1,20,50 che è la prima zona importante e poi abbiamo anche la possibilità di rivedere i prezzi magari a 1,19,85, 1,19,80 quindi un movimento più basso dell'area 1,20 per poi recuperare per poi avere addirittura l'area 1,19 come ultima zona a mio avviso di possibile pullback dei prezzi dell'euro. Sapete che l'euro ha questi movimenti di swing, di ritracciamento, long short, anche questo è il bello di questa coppia di valuta che ci permette di ragionare sia in ottica long che short, in ottica di breve termine guardando appunto da un punto di vista tecnico tutte quelle che sono le dinamiche dei prezzi. Poi in questo caso l'euro dollaro insomma abbiamo anche la possibilità di guardare un po' le correlazioni con gli altri mercati quindi di avere anche a volte qualche spunto in più e in questo caso una chiusura di questo tipo comunque abbastanza ribassista non è un qualcosa da al momento che diciamo ci dà una visaglia di short e mettiamoci short di euro dollaro. A mio avviso questo potrebbe diventare addirittura invece la possibilità di un'ossigenazione un po' più ampia dell'euro dollaro per andare a ricercare magari dei posizionamenti long su questa coppia di valuta tra 1,20 e 50 dico e 1,19,85. Queste sono le prime due zone poi la zona più bassa magari ci arriveremo magari la settimana prossima e ne riparleremo. Però queste qui sono le due zone più importanti a mio avviso e in effetti se poi andiamo a vedere, quindi avete capito la situazione weekly quindi una fotografia un po' più ampia, se poi andiamo sul daily dove si vede la stessa cosa ma si vede con un po' più di swing o con un po' più di candele di prezzo noterete che ci potrebbe essere in realtà una chiusura così settimanale potrebbe portare ulteriore debolezza soprattutto nei primi giorni magari della settimana mi viene da pensare quindi magari anche questa zona qui e da qui magari un ritorno dei compratori se dovesse avvenire perché io non voglio prevedere il mercato io reagisco in base a quello che sarà quello che mi diranno i prezzi se dovesse avvenire una cosa di questo tipo potrebbe diventare interessante allora cercare degli allunghi poi quindi comprare euro tra 1,20 e 1,20 e 50 nel caso in cui ci faccia delle price action long molto interessante perché avremo lo spazio per agire e andare a ricercare magari prima di tutto l'area 1,22 e 40 quindi la zona precedente e poi l'area 1,23 e 30 vabbè però già prendersi questo movimento potrebbe diventare un bel movimento e quindi che cosa fare? vedete potrebbe essere la volta buona che l'euro dollaro dopo questa ossigenazione ci crei magari quindi in apertura della settimana avere quindi nei primi giorni abbiamo detto un ribasso e poi un recupero quindi un settimanale che magari ci recupera verso l'alto e crei poi i presupposti addirittura per tenere la posizione appunto verso l'area 1,22 e 40 ma anche 1,23 e 30 che diventerebbe il top di target almeno per quanto riguarda il breve termine quindi quello che io andrò un po' a fare comunque come andrò a ragionare la prossima settimana sull'euro non sarà almeno al momento in ambito short seppur la dinamica chiama un ulteriore ribasso ma questo ulteriore ribasso è molto vicino a delle zone di acquisto interessante vista la tendenza, vista la struttura visto le percentuali di tracciamento di questa lag, visto un po' quella quindi che è la figura totale del mercato e quindi ritornare ad essere acquirenti di euro, venditori di dollaro per una ulteriore lag che a mio avviso potrebbe appunto avere come suo obiettivo finale di questo swing possibile se si viene a creare ovviamente stiamo sempre parlando del se si viene a creare l'area 1,23 e 30 questo è quello quindi che farò non credo che appunto andrò a posizionarmi seppur mi manterrò probabilmente doppia direzione su questo mercato però la view è quella di cercare dei long più bassi magari in area 1,20, 1,20 e 50 io a questo punto ho finito spero vi sia piaciuta questa pillola di trading vi ringrazio vi chiedo ancora di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale se non siete iscritti io a questo punto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti